A partire dal 19 aprile alvia il nuovo bando Easy Inail che prevede un fondo perduto fino a 130.000 euro per chi investe in sicurezza. Ne dà notizia Confartigianato Vallodidiano che offre un servizio di screening gratuito per gli adempimenti sicurezza ed assistenza per analisi di fattibilità della domanda. Confartigianato informa inoltre che se si intende assumere giovani under 30 che risultano non studiare e non lavorare si può beneficiare di un bonus giovani fino a 8.060 euro come sgravio contributivo. In questo caso Confartigianato Vallodidiano offre un servizio gratuito di profilatura e accompagnamento al lavoro per l'ottenimento del bonus. Inoltre presso Confartigianato è possibile attivare tirocini formativi per l'inserimento lavorativo che permettono di avere personale a costo del lavoro 0 fino a 12 mesi ed è attiva l'assistenza per le imprese nel processo nell'alternanza scuola lavoro. Da non dimenticare infine tutte le convenzioni in atto per ottenere agevolazioni su acquisti ed operazioni varie.